Ciao a tutti ragazzi, sono Candy e benvenuti in questo nuovissimo video di Murder Mystery Una delle serie che vi piace di più in assoluto del mio canale Sono molto contento, quindi mi raccomando lasciate tanti bei mi piace anche per questo video Adesso, io non faccio l'assassino da un bel po' di tempo Quindi non mi sorprenderei se alla prossima partita dovessi avere un bel coltello Sì lo so, mi dite tutti quanti che vi faccio ridere quando faccio la voce del cattivo Quindi oggi faremo i cattivi, i super cattivi Oppure beh, se dovessi essere il detective in quel caso dovremmo fermare l'assassino Mi raccomando fate arrivare questo video a più di 2000 mi piace Se volete degli altri video in Murder Mystery su Roblox E adesso ci divertiamo Sono, 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 sono per terra sono Beh sono anche un innocente, fantastico, iniziamo proprio alla grandissima Ok, ci troviamo in banca Questa mappa è molto facile ragazzi da vincere Perché è talmente stretta che se sei l'assassino puoi uccidere tutti quanti Con molta facilità Dobbiamo stare molto attenti Cerchiamo di stare in posti larghi Quindi spostiamoci, non siamo in mezzo alla folla Oh mio Dio, è morto qualcuno Chi è morto? Chi è morto? Mi sa che sono morti qua sotto Vediamo Sarà lui l'assassino? No perché mi ha appena ignorato Quindi non penso sia lui Qui dentro non si può entrare Questi due cosa fanno? Cavalluccio marino Ma come fa questo ad avere cavalluccio marino? Ok, entriamo all'interno di questa grata nel condotto d'aria Perfetto, siamo dentro il cavo ragazzi Prendiamo tutti quanti i soldi e scappiamo Uffa, aprite, apri, 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 apri Apri il cavo, dai muoviti Dattina bassa Potrebbe arrivare l'assassino da un momento all'altro Ok, adesso siamo chiuse all'interno del cavo Non è per nulla un buon segno Secondo me conviene scappare Oh, no, 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 no Sarà mica lei? No, non è lei? Perché mi avrebbe ucciso altrimenti, no? E chi diavolo è l'assassino? Allora, dove si sta nascondendo? Il prossimo che vedrò secondo me è l'assassino No, 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 non lei Oh, sì No, non può essere Mi avrebbe ucciso molto tempo fa L'assassino è qua da qualche parte Sapete cosa? Mi fingo morto Oh, sì, sono morto No, era lui! Dai, non ha funzionato Ma perché non mi ha ucciso prima questo? Aveva tutte le possibilità del mondo Di uccidermi e mi uccide soltanto adesso? Qualcuno potrebbe cascarci E credere che io sia morto Se mi metto così per terra Assassino Assassino Sono diventato l'assassino E avevo soltanto il 6% di possibilità di esserlo Guarda un po' chi si rivede Tu poco fa mi hai portato davanti l'assassino Adesso prendi questo Ecco Fantastico Ragazzi, dobbiamo assolutamente vincere Lei non mi ha fatto nulla nello scorso episodio Lui è il poliziotto Non mi uccidere! Oh mamma mia, ragazzi Perfetto Abbiamo il coltello sotto il nostro naso Ottimo Quindi se qualcuno cercherà di venire a prenderlo Sbam! Gli tiro una mazzata con il mio coltello rosso Qua c'era qualcuno L'ho visto Ne sono sicuro al 100% Guarda quello Vuoi prendere la pistola? Vieni, vieni qua Prendi la pistola Ah, sì Prendila Vieni qua Che ti tiro il coltello addosso Ti tiro L'ho mancata! Oh cavolo Ok, l'ho preso E tu dove pensi di nasconderti? Che bello, ragazzi Essere l'assassino in questo gioco È super divertente C'è qualcuno qua per caso? Mi avete letto tutti quanti che qua c'è un passaggio segreto Ma al momento non possiamo controllarlo Che cosa c'è là? Vedo qualcosa Ah, il mio coltello Era il mio coltello che fumava Allora, dove si trovano tutti quanti gli innocenti? Ucci, ucci Sento puzza di bellucci Dove siete? Dai, fatevi vedere per favore Non può essere che c'erano soltanto quei tre Si nascondono Si stanno nascondendo tutti come dei conigli Come dei polli E allora adesso arriva il lupo cattivo Pronto a stanarli Quindi qua abbiamo detto non c'è nulla Qui c'è qualcuno di nascosto? Qua c'è sempre qualcuno nascosto Tranne questa volta Oh mio dio ragazzi C'ho 80 secondi di tempo Qualcuno ha preso l'arma Oh, l'hanno presa Quel cowboy ha preso l'arma No, ha capito che sono l'assassino Non ci credo Non mi dire che era l'unico rimasto No, non ci posso credere ragazzi Un cowboy mi ha fermato Era alla ricerca dell'assassino Mi ha sparato No, non è giusto Io volevo vincere Va bene, sarà per la prossima Non vi preoccupate Guarda che cappello buffo che c'ha questo Ma come cammini? Ha le gambe lunghissime rispetto al corpo Fatti vedere un attimo Ah, ma sei un signore anziano Guarda il cappello da pirata Ha uno stile un pochettino particolare Beh, io del resto non posso proprio parlare Sono una tv zombie Ora sarò il detective E invece sono un innocente E sono anche in bagno Ok, per favore chiudete questa porta Sto facendo i miei bisogni Ora mi lavo i denti Ok, perfetto Siamo pronti ad andare a stanare l'assassino Ma tu sei una persona vera per caso O sei un manichino? Oh, posso fingermi un manichino ragazzi Mi metto così Ah, ma era una persona vera Pensavo fosse un manichino Oh mio dio Ok, ok Calma Calma È sangue fredda ragazzi Non è morto nessuno Non è vero Sto dicendo tante bugie Sono morte già due persone E c'è qualcuno qua Sarai mica tu l'assassino? No Non è lui Qua non si può entrare Qua neanche Però nella grata Sì, possiamo entrare nella grata Fantastico Ok Continuo a sentire l'assassino Che fa un macello Qua siamo negli spogliatoi Ci sarà qualcuno nascosto qua? No Dove siamo? In palestra Che cos'è questo posto? Una scuola? Un'aula conferenze? Non capisco Mi sa che è una specie di college Sì Deve essere una scuola americana Questa è l'aula tipo Del preside Forse Tutto a posto tu? Perché c'è un gatto sulla testa? Oh Oh mio dio Questa è la pistola Oh mio dio Ok Quindi l'assassino è stato qua Sarà mica lei? Non è lei Non può essere lei Perché lei Lei era con me Quando la gente moriva È lui l'assassino Secondo me È lui È questo Vieni qua Vieni qua Dove pensi di scappare? È lui? È lui secondo voi? Non è lui Non è lui Non facciamo vedere la pistola Allora Non è neanche lei? Sarà mica Il bandito che mi ha ucciso prima? Sì! Oh mio dio Era lui No Non ci posso credere Ma Di nuovo Due volte di fila ragazzi Due Mi dovevo fidare del mio istinto E ucciderlo quando non avevo l'opportunità Ok Sono di nuovo un innocente Questa volta mi voglio nascondere all'interno del lavandino Oh sì Non mi troverà nessuno qua dentro Eh no Ehi Ehi ci sono già io Per favore vattene No Questo lavandino è occupato Chiamo un idraulico se te ne serve un altro Ok Siamo qua dentro ragazzi Non ci può succedere nulla Siamo al sicuro Vedete Siamo dentro il lavandino Nessuno penserà mai che c'è qualcuno qua dentro A parte lui Lui è venuto direttamente qua dentro Ehi ti togli i piedi dalla mia testa per favore Ci sono io Oh Ma cosa fate qua? Ve ne andate tutti quanti? Mannaggia I piedi in testa mi stanno mettendo Guarda un po' Tutti qua oh Ma non lo potevate trovare un altro nascondiglio Non vi faccio entrare Ci sono io Ho detto Via Via Possa via Via Ciao Dai Dai che così ci sghamano Se no Uffa Dai entra Entra anche tu Ok Adesso siamo in due Non ti muovere Hai capito? Oddio Alla bandiera francese Questo non mi capisce Fatti più in là Era mio questo posto Mi sa che è arrivato il momento di sedersi ragazzi Sediamoci all'interno del lavandino Oh cavolo c'è un problema Riescono a vedere la testa del teschio No 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 Mi devono scondere da un'altra parte Dentro il frigo Dentro il frigo è meglio Sì 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 Ok E ora mi siedo all'interno del frigo Fa freddo però Uffa Mi sa che Mi conviene uscire Oh cavolo che freddo E' appena morto qualcuno No 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 L'impressione è che questo qua E' l'assassino Io mi siedo Sto buono Sta uccidendo tutti ragazzi Devo correre Un mio tiro l'hanno fermato forse Qualcuno ha sparato No è morto E' morto il detective Non sono riuscito a fermarlo E' lui Questo è l'assassino secondo me E' lui Non è lui Mi sa che è il detective lui L'assassino è lui Sì l'hanno ucciso Grandissimo Teschio teschio delle mie brame Chi sarà l'assassino più forte del reame? Non io Perché sono un innocente Fantastico Ok se non altro ci troviamo in hotel Questo qua c'è una zucchetta Dove l'hai trovata la zucchetta? È bellissima Ciao tu Uomo con la barba E con i baffi Cosa hai in mano? Ma E' la testa di Iron Man Quella per caso? Ok Ah Qua c'è la tv Allora io posso sedermi E guardare la tv tutto il giorno Ok Voi fate quello che volete fare Se siete assassini Detectivi o innocenti Non mi interessa Io ora mi guardo i cartoni animati Vuoi guardateli con me Timmy? Timmy? Timmy! Non mi capisce Ma questo frigorifero è minuscolo Mamma la pena Ci entra la mia mano Questa porta è chiusa Qua non si ci può entrare questa volta No C'è qualcuno che sta uccidendo tutti quanti E ancora non ha capito che noi ci troviamo al piano di sopra Ok vediamo se riesco a trovare È lui L'assassino mi sa O è lui Chi è? Chi è dei due? È la ragazza È la ragazza Ok l'ho vista L'ho vista L'ho vista Ci dobbiamo nascondere No 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 Teschio Togliti Togliti da là Ok siamo nascosti Non ci vedrà mai No mi ha visto Ecco Mannaggia No Ma com'è affatto a vedermi Cos'ha la vista ragi X Ragazzi mi raccomando Lasciate tanti bei mi piace Se vi è piaciuto questo video Di murder mystery Su Roblox Ovviamente ne porterò tanti altri Vediamo di arrivare a più di 2000 mi piace Iscrivetevi al canale Se non vi siete ancora iscritti E attivate la campanellina Dal vostro candy è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti